Salve a tutti ragazzi e buongiorno a tutti Faccio questo video per darvi un'informazione molto importante O meglio, noi comunque ci teniamo che ha organizzato il tutto Lo sto registrando la mattina dopo aver caricato, aver scritto sulla pagina facebook il post Che appunto vi metterò in sovraimpressione, ma di cui comunque vi parlerà in questo momento Il carissimo Rudy Slatan, il bomber che saluto, ha avuto una brillantissima idea Ovvero da un po' di tempo stavamo pensando di fare una partita di calcetto con gli iscritti È un'idea che chiaramente ci piaceva perché serve comunque per incontrarci un po' come fosse una fiera alla fine Il romix della situazione e anche perché sticazzi sinceramente delle abilità di qualsiasi persona a calcio Per esempio tra di noi c'è qualcuno che non è bravissimo, da quello che so Ma comunque l'importante è essere lì, l'importante è incontrarci, scambiare due chiacchiere, fare qualche foto se volete Tutto quello che è lecito e anche quello che non è lecito Detto questo ragazzi vi illustro subito il tutto Allora, la partita si terrà a Roma, nella nostra città chiaramente, intorno alle 16 del 16 Quindi martedì, il posto preciso ragazzi non lo sappiamo Zlatan, se avete visto il suo video comunque vi lascio in descrizione Ha ben detto che per info vi faremo sapere meglio nei prossimi giorni Perché comunque è stata una cosa un po' carpe diem alla fine Ci stiamo pensando tanto tempo ma l'abbiamo organizzata così sul momento Per esempio Zlatan mi ha avvisato ieri sera, io sono qui in Sardegna Quindi ragazzi mi sembrava giusto farvi questo video Io vi ripeto, per maggiori informazioni vi faremo sapere meglio nei prossimi giorni Io comunque vi invito ad esserci veramente in tantissimi perché sarà un grande evento Ci divertiremo a bestia Dove potete comunque trovarci per maggiori informazioni Allora, come ho scritto ieri sera sulla pagina Facebook Potete contattare me o gli altri Quindi per esempio saremo sicuramente per ora io, Zlatan e i FIFA Raptors Che tra l'altro vengono da Bologna Quindi loro vengono il treno, se non siete di Roma prendetelo anche voi, no? Non capisco quale sia il problema E quindi stiamo un po' cercando di esserci in tanti Cercate di esserci anche voi in tantissimi Vi ricordo che potete contattare me o gli altri sul profilo privato Pagina Facebook, anche Whatsapp se ce l'avete Ma non ce l'avete quindi che problema c'è Volevo avvertirvi qui, non è che volevo fare un video della Madonna Volevo semplicemente farvelo sapere perché so che siamo più su Youtube che sulla pagina Facebook E quindi molti, non molti Perché comunque siamo più o meno la metà sulla pagina Facebook Però diciamo appunto, la metà non... Magari non sapeva quello che ho scritto ieri Quindi io vi saluto, mi raccomando, siateci in tantissimi martedì Io vi invito a seguirmi sulla pagina Facebook Perché vi farò sapere meglio, in maniera più precisa Quale sarà il posto Magari ve lo dirò anche in un video a parte Quindi che ne so, faccio un episodio della carriera E ve lo appiccico lì alla fine Vi dico qual è il posto, all'inizio, poi vediamo Comunque io vi saluto, grazie per la visione E se ci siete, a martedì Ciao a tutti